ciao ragazzi bentornati sul mio canale in questo video voglio mostrarvi la borsa che avete visto nel video spacchettamento avon allora la borsa si trova a pagina 66 di questo catalogo qui campagna 11 12 novembre dicembre 2023 costa 22 euro e 99 le misure sono 32 per 5 per 32 cm e in poliestere e più poi abbiamo leggiamo qui pochette removibile con zip andiamo a vedere la borsa nei dettagli abbiamo nella parte frontale questa cerniera i dettagli sono tutti in oro non so se si riesce a vedere dalla telecamera faccio vedere all'interno qui come si presenta questa tasca dentro è fatta così quindi non abbiamo nessuna cerniera è semplice la grandezza è questa abbiamo la tracolla regolabile anche qui con questo dettaglio in oro le cuciture sono queste è fatta devo dire benissimo vi rifaccio venire di nuovo il catalogo dove potete acquistare questa borsa ragazzi io spero che vi piace questa borsa magari la potete anche regalare a qualcuno a natale oppure a un compleanno lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video con tutti i vostri amici e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video con tante altre novità sempre avon